ciao a tutti da maurizio di moto.it benvenuti su recensito di cosa parliamo oggi un oggettino interessante che farà la felicità di chi ama ricercare le prestazioni massime in pista ma anche per chi pratica motocross minimo tard o possiede un quad o un trike ma anche per chi non meno importante ha un handicap agli arti inferiori stiamo parlando della pompa pollice e della pompa indice da 13 mm e dell'indispensabile accessorio della pompa posteriore con doppio rinvio se si vuole avere un'azione in parallelo della pompa di scacciati e di quella posteriore di serie quindi pompa pollice quella con la leva grossa pompa indice quella con la leva un po più piccola ma veniamo a noi iniziamo a spiegare a cosa servono questo tipo di pompe a chi non lo sapesse già innanzitutto di scacciati con questi oggetti offre la possibilità di correggere in curva la traiettoria con la moto inclinata operazione difficoltosa o impossibile nelle pieghe più accentuate verso destra nel caso del motard poi la pompa indice è utile a chi pratica fuoristrada e vuole ritrovare una maggiore sensibilità in frenata difficile da avere con gli stivali da motocross o da enduro indossati infine c'è chi la usa in totale sostituzione alla leva del freno posteriore riassumendo pompa pollice per minimo tard per la pista e per i quad e poi la pompa indice per il fuoristrada ma anche dedicata alle moto super sportive dipende dai gusti le pompe di scacciati pompa corpo e leve sono realizzate interamente in alluminio e sono regolabili nella distanza grazie alla vite micrometrica inoltre il produttore ci ha fatto notare come questi due prodotti siano il frutto di un attento studio per rendere favorevole anche il rapporto di leva e non dover spingere troppo azione che potrebbe minimamente creare degli scompensi sull'azione al manubrio per chi dovesse poi avere problemi fisici sappia che queste due pompe sono omologabili chiedendo informazione alla enditec varianti il colore del corpo pompa frutto di un'ossidazione dura è di questo colore che vedete ma le leve che sono anodizzate si possono avere sia in silver sia in black arriviamo ai prezzi 260 euro più iva la pompa pollice e la pompa indice 72 euro più iva il supporto a manubrio e 166 euro più iva la pompa posteriore il peso della pompa pollice è di 135 grammi infine la garanzia trattasi di un prodotto per impiego racing quindi è garantita dal signor enrico di scacciati in persona ma solo sui difetti evidentemente strutturali o di componentistica peraltro molto molto rari però quello che ci preme segnalarvi è di utilizzare sempre oli di ottima qualità di marche conosciute come castrol motul o siccolene ciao a tutti da maurizio di moto.it vi aspetto alla prossima puntata di recensito ciao a tutti da maurizio di moto.it benvenuti a recensito dovete sapere che è un sandwich di più materiali la vestibilità è piuttosto stretta ma addentriamoci nel dettaglio quali sono le caratteristiche principali infatti pesano circa un terzo in meno rispetto alle batterie tradizionali vanta diverse accortezze soluzioni che solitamente troviamo su giacche di fascia più alta si nota poi il sistema di ritenzione a cinghia con doppio anello ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti